Nella giornata internazionale dell'educazione, ADRE Europa ricorda che l'istruzione è un diritto umano, un bene e una responsabilità pubblica. Più in là della tua vita è stato il tema del congresso di giovani e dei compagnon latinoamericani in Italia. Si sono incontrati a Casuccia Visani per riflettere sulla Bibbia e per lodare e pregare Dio. I legami di solidarietà portano gli sconosciuti a diventare amici, l'esperienza di Adra Iesi. Sono solo alcune delle notizie di oggi. Nuova edizione del Videogiornale Adventista e una produzione Oppomedia Italia. Bentrovati. L'istruzione è un diritto umano, un bene e una responsabilità pubblica. Lo ha affermato ADRE Europa in occasione del 24 gennaio, giornata internazionale dell'educazione. Nel mondo sono 244 milioni i bambini e i giovani che non vanno a scuola e 771 milioni gli adulti analfabeti. Senza istruzione è impossibile interrompere il ciclo della povertà e assicurare una vita dignitosa. Nel 2021 Adara ha realizzato 179 progetti educativi in tutto il mondo, di cui hanno beneficiato oltre 500.000 persone. Iniziato in modo speciale per i giovani e i compagnon latinoamericani in Italia. Il loro primo congresso si è svolto all'inizio di gennaio nel centro Casuccia Visani a Poppi. Gli ospiti hanno parlato sul tema più in là della tua vita. Riflessioni bibliche e momenti di lode e preghiera a Dio hanno caratterizzato il fine settimana. Toccante è stato il programma del sabato sera, un percorso sulle orme di Gesù verso la croce. Alcuni volontari di Adraiesi hanno rivisitato un'azienda marchigiana colpita dall'alluvione del 2022. In quei giorni avevano spalato il fango e ripulito la struttura. Adesso hanno portato un dono e gli auguri di buon anno. I proprietari hanno accolto il gruppo. Questi sono stati alcuni volti della nostra salvezza, hanno detto. Ora non sono più degli sconosciuti per noi, ma è fiorita una bella amicizia. Il campus avventista di Sagunto, in Spagna, è entrato per la prima volta nella classifica delle 100 migliori scuole del paese. La lista viene compilata ogni anno da Micole, il motore di ricerca per scuole, asili, nido e istituti. Se Micole pone Sagunto all'attuantacquattresimo posto a livello nazionale, una ricerca della provincia di Valencia classifica la scuola al dodicesimo posto. Adra Nantes è uno degli attori di solidarietà a cui si fa riferimento nella guida all'emergenza sociale della metropoli francese. Da diversi anni la città mette a disposizione questo puscolo che presenta le strutture di supporto disponibili a livello locale e servizi che offrono. La guida è rivolta alle persone in difficoltà e consente di trovare le informazioni necessarie per ricevere aiuto e supporto. Quest'anno la legge italiana che vieta il fumare nei luoghi pubblici ha compiuto 20 anni. Emanata nel 2003 tutela la salute dei non fumatori e afferma il diritto delle persone a non essere esposte al fumo passivo. Un altro anniversario, questa volta tutto avventista, è quello del piano dei 5 giorni. Il primo corso per smettere di fumare è nato in Italia 50 anni fa, nel 1973. Questo corso intensivo, affiancato da incontri di richiamo, ha rilevato il 90% di successi tra i partecipanti. Nel 1998 il metodo è stato ribattezzato Respira Libero. Era l'ultima notizia di oggi. Ci salutiamo con un pensiero tratto dalla lettera di Giacomo, capitolo 3, versetto 17. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Per essere sempre aggiornati, vi rimandiamo al sito apomedia.it con articoli, video, podcast, audio e video. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie per essere stati in nostra compagnia.